oggi vi do la ricetta della mia torta arancia e mandorle semplicissima da fare e non vi dico quanto è buona ragazzi è soffice soffice e si fa in un attimo vediamo come l'ho realizzata all'interno di una ciotola mettiamo il pralinato di mandorle lo zucchero e le uova vi ricordo che la ricetta del pralinato di mandorla la trovate sul sito e anche alla fine di questo video aggiungiamo anche l'olio e sbattiamo bene con la frusta elettrica ora aggiungiamo le scorze delle arance il succo mescoliamo ancora e infine non ci resta che aggiungere la farina e il lievito mescoliamo giusto un attimo in modo da amalgamare bene tutto quanto e versiamo l'impasto all'interno di uno stampo ben imburrato e infarinato inforniamo a 180 gradi per circa 30 35 minuti fate sempre la prova dello stecchino per sapere quando è pronto il dolce una volta che il dolce si è raffreddato lo possiamo togliere dallo stampo ed ecco qua la nostra ciambella arancia e mandorle è già buonissima così però io vado a decorarla con un pochino di cioccolato fondente sciolto al microonde e qualche fettina di arancia tagliata a forma di farfalla spero che questa ricetta vi sia piaciuta se la provate lasciate un commento qua oppure sul sito con la vostra opinione e se volete scatate una foto e pubblicatela su instagram utilizzando l'hashtag ricette di gaberi grazie e noi ci rivediamo prestissimo ciao 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 ciao